Prenderà il via domani a Castellabate, la Kermess Castellabate luogo dell'incanto, la rassegna culturale realizzata dal comune di Castellabate nell'ambito del POC Campania 2014-2020. Si tratta del programma di eventi previsto nel comune di Benvenuti al Sud dal 19 dicembre fino al 1 giugno 2019. Si comincia così domani con il concerto Donna Madonna, agli ore 18.30 presso la chiesa Maria Santissima Immacolata, nella frazione Lago di Castellabate, con la presenza di Fiorenza Calogero e Marcello Colasurdo, l'artista napoletana con la partecipazione di Marcello Colasurdo, voce e tamorra dei canti tradizionali campani, tamoriate e canti devozionali alle idee madri del Mediterraneo. Partendo dai canti devozionali, la cantante e attrice campana ripercorre i motivi tipici della tradizione partenopea, attualizzandoli nei contesti sociali udirni. Si tratta di un progetto che vedrà l'alternarsi, nelle varie frazioni del comune, di grandi nomi del mondo dello spettacolo e si articolerà in diversi momenti, da dicembre 2018 a giugno 2019, con eventi di qualità musicali, teatrali e visite guidate.